Il primo marzo per Vibo Valencia è giorno di festa, perché è il giorno in cui si celebra il santo patrono, San Leo Luca. Siciliano di Corleone, San Leo Luca scelse l'allora Monte Leone come luogo in cui fermarsi, in particolare il convento di Vena, dove operò diversi miracobi. Proprio qui morì e fu sepolto, e dopo oltre 1200 anni della morte non si è mai affievolita la devozione dei vibonesi verso il loro santo patrono, al quale si rivolgono soprattutto nei momenti più difficili. In questo senso si inserisce il messaggio del Vescovo che nella sua omelia ha offerto alcuni spunti di riflessione riguardo i temi di stringente attualità, evidenziando i rischi che oggi corre il territorio a causa di atti inesorabilmente legati alla criminalità. All'Orcode in particolare ricorda che Gesù trasforma il linguaggio di odio in una prassi d'amore, ed ancora quando sottolinea che bisogna difendere i valori con il sacrificio anche a costo della vita. Ha senso quindi questo legame profondo della comunità vibonese al suo santo patrono, soprattutto ripensando al ruolo che i vibonesi danno, allorquando, ad esempio, si narra che in occasione di tremendi terremoti e pestilenze, Selle Luca abbia sempre salvaguardato la città. Durante il sisma del 27 marzo del 1638, quando la vicina Soriano e il suo maestoso monastero domenicano furono quasi rasen suolo, ma Vibo Valencia, l'allora Monteleone, rimase in lese. Anche nelle calamità degli anni successivi, il santo siciliano ha protetto i vibonesi che da sempre gli tributano onori e grande devozione. Questo spiega il senso ed il forte valore simbolico di fede di quello che viene considerato dai vibonesi il momento più intenso, l'omaggio floreale dei Vigili del Fuoco alla Statua del Santo, posta in cima dell'antico convento domenicano del Valenzianum, mentre il coro intorno all'inno a Selle Luca, scritto a suo tempo dal maestro Matteo Puzzello. Grazie.